Ieri mobilitazione generale in occasione del 25 novembre data scelta nel 1999 della Nazione Unite come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Incontro e dibattiti per dire no alla violenza sulle donne, ad ogni forma di violenza fisica, verbale o psicologica contro ogni essere umano. Ciascuno di noi ha il dovere e la responsabilità di impegnarsi affinché questa barbarie venga arginata, detto ieri a Gela il sindaco Angelo Fasuro. Ed è di oggi la truppa vicenda scoperta dalla polizia del locale commissariato gli inquirenti hanno fatto luce su una violenza sessuale consumata ai danni di una donna nigeriana di 40 anni. Il suo guzzino adesso in galera è un ganese di 30 anni incensurato. Le accuse a suo carico sono pesantissime, sfruttamento della prostituzione, lesioni, violenza sessuale e violenza privata. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal sostituto procuratore del tribunale di Gela Antonio D'Antona a seguito di una delicata e complessa attività investigativa coordinata dalla locale procura diretta da Lucia Lotti e svolta in collaborazione con la sezione di polizia giudiziaria della stessa procura e dal personale della sezione investigativa del commissariato. È stata la vittima ad allertare le forze dell'ordine dopo aver eluso la sorveglianza del proprio persecutore. Una telefonata al 113 che ha permesso di porre fine alla squallida vicenda. La donna dopo essere stata liberata dalle grinfie dell'uomo è stata curata ed adesso si trova in una comunità protetta. Secondo quanto ricostruito l'ha restato circa 20 giorni addietro ha invitato la signora sua conoscente a trasferirsi a Gela promettendole un lavoro ed una sistemazione abitativa nel suo appartamento ma si trattava di un inganno. La nigeriana infatti è stata indotta alla prostituzione addirittura all'interno di un'abitazione è stato consumato contemporaneamente un rapporto sessuale con due clienti prezzo pagato 20 euro soscuro. La stessa notte la Cuzzino ha costretto con forza la vittima ad avere un altro rapporto sessuale dopo averla strattonata, aggredita e spogliata all'interno del proprio domicilio. La ha violentata costringendola perfino a dormire nel suo letto. Un incubo continuo per la donna costretta il giorno dopo ad avere un altro rapporto sessuale addirittura con un ragazzo minorenne procacciato dal canese ma la vittima in quell'occasione si è categoricamente rifiutata. Nonostante avesse provato in diverse circostanze di darsi alla fuga la donna fu continuamente obbligata a rimanere in casa. Un giorno addirittura fu aggredita ripetutamente a colpi di bastone.